La Sicilia si è candidata a capitale dell'enogastronomia 2025, l'evento di Bir Catania è una tappa di un percorso di accompagnamento che il governo della regione fa insieme ai produttori della nostra regione in tutta la filiera agroalimentare. Bir Catania sarà un evento nazionale, un evento che coinvolge i produttori birrifici siciliani ma anche tutto alla filiera enogastronomica e agroalimentare del nostro trasformato siciliano. Un momento di confronto culturale ma soprattutto un'esperienza che va vissuta per essere sempre più consapevoli che in Sicilia produciamo prodotti di eccellenza che vanno consumati con la consapevolezza che sono prodotti provenienti dai nostri territori che raccontano storie e tradizioni di una Sicilia che vuole continuare a andare avanti. Bir Catania dal 2015 vuole raccontare un'isola felice, la Sicilia fatta di eccellenze in cui il comparto e la filiera della birra artigianale siciliana e delle eccellenze del territorio trovano posto in 1 a 4 giorni a Villa Pacini dal 18 al 21 di maggio, se seguita di tanti eventi di natura culturale approfondimento e degustativo che possono far conoscere la birra artigianale e le eccellenze del territorio come non sono mai state conosciute ai più. Creare consapevolezza è il nostro obiettivo primario nonché creare anche un momento di benvenuto per i tanti turisti che in questo momento saranno a Catania i tanti appassionati della birra e delle eccellenze del territorio che troveranno non solo gli stand di birra artigianale siciliana nazionale ma anche street food e eccellenze del territorio da poter provare degustare in abbinamento o semplicemente essere lì a passare delle ore di piacevolezza e spensieratezza con gli amici. Il bello della birra è questo, il suo approccio molto informale, di conoscenza aggregativo, sociale che in questo momento necessita avere non solo la Sicilia, non solo Catania ma ognuno di noi. Ci aspettiamo tanti visitatori, puntiamo alle 20.000 presenze tra turisti catanesi appassionati di birra nella quattro giorni per poter fare di Catania capoluogo della birra artigianale e delle eccellenze del territorio in cui ognuno di noi possa riscoprire a Villa Pacini, luogo storico giardino e villa dei catanesi, aprirla a chiunque ha il piacere di essere lì e trovare 20 birrifici artigianali, 10 proposti street food, diversi stand di produttori di eccellenza, diverse degustazioni ogni giorno, talk in cui si verranno presentati i prodotti e i produttori e tante degustazioni.